Ciao ragazzi, sono il Pazzerello, come state? Io tutto bene. Questo è un video molto particolare, perché la cosa che ho deciso di fare in questo video è fare un video doppio tra il canale di Mark e Pazzerello. Praticamente il primo video che metteremo sarà il video dell'incontro di Vladi, anche se non abbiamo fatto il video con lui, perché lui stava lavorando per Jujubox e quindi abbiamo fatto solamente foto e tutto il resto, abbiamo fatto il video con io, Mark e Marcello e tutto il resto. Poi il secondo video è stato praticamente il video che abbiamo fatto la Pizzata del Soggiorno, dove praticamente però non ci sarà Mark e Marcello perché non fanno parte della zona Mirafeliswood, quindi praticamente ci sono solo io con il gruppo del Soggiorno, sia il Mirafelis del nostro gruppo e anche delle altre parti, con tutti gli educatori, lo staff e tutto il resto, anche ragazzi e tutto il resto. E quindi spero che vi piaccia questo video, poi devo dirvi che è stato bello sia fare la foto con Vladi e poi soprattutto fare la serata di Pizzata con il mio gruppo, è stato veramente molto bello, vi consiglio di vedere questo video che spero che vi piacerà. Se raggiungiamo almeno 30 o 40.000 mi piace, faremo un altro video dove però decidete voi qualche cosa, però qualcosa di più bello, ok? Ciao ragazzi, vi lascio il video, il doppio stavolta perché la metterò tutte insieme stavolta, anche se a Pizzata ci sono solo io, però metterò lo stesso insieme così fa parte la settimana, ok? Ciao ragazzi, buona visione! Ciao ragazzi, siamo Mark e il Pazzarello, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è domenica e stiamo andando con il 2 e stiamo andando all'evento di Vladi. E trovare il nostro amico Vladi di Radio Jukebox. E di prima antena lì, che è il nostro carissimo amico che noi tifiamo. Oggi abbiamo preparato anche un bigliettino per lui con i saluti, che oggi festeggerò anche il record perché dal 2007 che lo seguo e quindi oggi è proprio il giorno del record dei 10 anni che lo seguo. Quindi speriamo il bene, che faccia bene questo evento e ci divertiamo. E poi ci facciamo fatto insieme l'autografo. E' un grande simpaticone ed è bravissimo Vladi. Ok, ci vediamo dopo ragazzi. Ciao, buona giornata, a presto. Ciao ragazzi, siamo ancora alla fermata e abbiamo un ospite eccezionale, sempre accompagnatore, Marcello, che oggi ci sarà con il mio con noi. Il signor Marcello. Stai benissimo con gli occhiali, eh. Grazie. Oggi è stata la dedica di Vladi con i capelli alla plasinata. Ciao ragazzi, ci vediamo dopo e stiamo andando adesso all'evento, ok? Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Abbiamo appena finito di fare la foto e gli autografi con Vladi, abbiamo parlato un po' con lui. Ci sono molto divertiti, l'abbiamo incontrato. Solo che non c'è stata occasione per fare il video, perché lui stava lavorando per Radio Jukebox fino alle 3, quindi non volevo distrarlo dopo. Però lui ha già accettato il nostro invito alla pizzata, che lo faremo più in avanti e lo faremo al più presto. Speriamo che sarà una bella salata, che questa volta poi faremo anche il video per la pizzata con lui. Sono stato molto contento di conoscerlo. Marcello saluta e fagli un saluto a Vladi. Grande Vladi, sei mitico. Grande Vladi, sei il numero uno. Ciao ragazzi. Allora, auguro ai nostri ascoltatori una buona domenica. E buona domenica a tutti. Ciao a tutti da Marche e Pazzerello. Ciao ragazzi. Ciao, a presto. Ciao ragazzi, sono Pazzerello e sto andando adesso a prendere Vincenzo, Teresa e andiamo alla pizzata per il soggiorno, ok? Ciao ragazzi, ci vediamo dopo. Ciao ragazzi, sono Prende Vattin Finze che sto aspettando degli altri. Qua c'è Mario, saluta il mio canale. Ciao. Ciao Mario, saluta. Ciao Mattia. Come va? Tutto bene? Tutto bene. Sei pronto per la pizzata? Sì, fottotoro. Ciao ragazzi, adesso aspettiamo gli dati che arrivo. Eccoci qua ragazzi, siamo alla serata. Nella pizzata che stiamo aspettando gli altri. Qua vicino a me c'è Teresa, la sorella di Vincenzo Puppione, vero? Sì. Fai un saluto, saluta. Ciao. Sei grande, sì. Ed eccoci, adesso aspettiamo gli altri. Stiamo arrivando lì qua. Ci sono tutta la pizzata, qua dietro c'è la mia televisione. Che c'è la pizzata? A dopo ragazzi. Bene ragazzi, siamo per noi iniziati. Fai un saluto a Elisa. Ciao Francesca. Ciao. Ehi Gualtiero, un saluto. Buonasera a tutti, siamo felicissimi di rivedervi e spero che la serata vi piacerà, che la pizza sia buona e... Assolutamente, questa è giusta. E poi soprattutto è la dedicata a Stefano, il nostro amico. Preso così. Che lo salutiamo, ciao Stefano. Poi saluto la mia ragazza, saluto tutti quanti. Ciao ragazzi. Che ci seguono? Alla prossima, dopo. Ragazzi, sono... Che non mi leggono. Andiamo a mangiare della sesta fetta, ho mangiato sei fetta ragazzi. Non mi leggono. Qua c'è Mario che sta mangiando anche lui la fetta. Quando è la tua fetta? Ne avrei mangiate almeno cinque. Cinque ne avrei mangiate. Cinque. Ciao ragazzi. Due. Sì, due. Guarda che roba. Bella al Brody. Ciao ragazzi e a dopo. Eccoci qua ragazzi, ho appena mangiato la sesta fetta, sono già abbastanza pieno e speriamo come sarà il mio tasme. Qua c'è Mario, è mangiato un po' la festa, siamo fuori eh, ma noi non siamo obbligati a mangiarne tanto, noi ci divertiremo lo stesso stasera. Ok? Ciao ragazzi, a dopo. Ragazzi, qua siamo... Cosa facciamo? Facciamo ancora un video? No. Sei già sazia Elisa? Eh, uo. Cioè, uo. Anche se no me. Le c'è comprate e poi le c'è uo. Tonino, che succede? Ecco, Mattia. Ciao. Sei sazio Mattia? Sì, ma questo è dolce. Ah bu? Grazie. Perché oggi mi è partito. qui c'è anche lì ecco Tonino sei sazio Tonino? sei sazio? sei sazio devi fare un saluto ciao grande Tonino bene ragazzi ci siamo tutto ok qua vedo qua e lo comprate lì per poco sono grigie ciao ah ma è un video eh di vlog ciao io ho mangiato stra bene stasera eh poi vedo che hai mangiato lì la tua pizza lì però non mangi il piccante perché tu non hai mangiato le salami piccante eh no è vero sono contento guarda che sei venuta anche te sai anche io sono contenta che tu sei qua eh beh grazie a me che l'ho invitato tutti sai ho dovuto invitare il birtino perché sai giustamente bisogna organizzarsi vabbè ci siamo dopo eccola qua bene ragazzi anzi fai il salutarmi salutone qua salutò anche Katia anche se no li prendo lì ecco qua ciao ciao Valeria ciao ecco la città che fonte qua c'è la nostra teresina ah sì ma sei sanzi tu? no ha mangiato la pizza ha mangiato la pizza e poi ha mangiato tutta la pizza e adesso te lo dico lì ecco qua Mario qui c'è Mario che anche lui è sazio vero? poi qua Gianfranco vai siamo Gianfranco tante portate salut ciao Umberto guardalo qua il nostro Umberto ha cambiato look che vedo com'è questo nuovo look? benissimo no look dicevo i capelli hai cambiato look ho visto dal soggiorno sì ma sei sempre troppo giuglientino sì eh qual è il tuo preferito di giocatore? Di Balla Maggisio Maggisio sì è vero ma c'hai sempre il profilo eh sì o sei già riempito va bene poi guardi anche Cataldo c'è lo saluto da qui sai Cataldo che è già tranquillo lui eh sì grande lì ma chi? ma stai fanno? cosa? ma ma qui? no è per il mio video la Marchese ecco Emanuele ciao Emanuele che guarda di chi? ciao Cataldo ciao sto salvaggianto del vlog saluta sei sazio Cataldo la pizza ti piaciuta? sì bene mi piace dalle tocca la sorella è qua a chi? aspetta a chi se fanno? Marchese sì a chi? il mio video il mio vlog del canale ah sì e poi lo vedrai sul mio canale youtube ok lo vedrai assolutamente oggi che è lunedì mercoledì sarà pronto ok in questo video ci sarete tutti voi in questo video ok saluti Elisa e lì c'è sempre c'è sì sto già facendo il vlog sul canale youtube mio poi dopo ve lo dico così così ecco ragazzi guarda me tori Katia non ce la sta facendo più non ce la stai facendo più carale Teresa non ce la fa più Teresa ma forse è carissima oh Vincenzo non hai fatto il saluto grande saluto grande Vincenzo beh ragazzi ci vediamo tra poco eccoci qua ragazzi adesso qualcuno di noi sta prendendo dei dolci vediamo un po' cosa dicono gli altri oh carissima Elisa qua io vedo che hai ordinato già un dolce sì 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 ho ordinato assolutamente un dolce tu l'hai ordinato? no vabbè perché sono già pieno già con le pizze che ho mangiato e quante pizze hai mangiato? eh sette sette alla fine sette alla fine ne hanno fatto dieci ma è bene erano grosse sai sembra molto grande tu hai detto che prendi il gelato al cioccolato sì che a me piace assolutamente anche a me giustamente il gelato al cioccolato ci sta sempre sì assolutamente molto elegante questa cosa qua vediamo un po' cara Francesca le pizze tu le mangiate le sono già venti la mese adesso siamo in attesa dei dolci che tu cosa hai preso? ho messo il sormetto al limone beh tu io non ho preso niente perché lo sono già pieno non ho fatto neanche il record ho mangiato solo sette pezzi di pizza ma già basta avanza per me è come se fossero quindici già così bravo bravo quindi cara Francesca lo vediamo tu ci ha fatto già carica la grande hai fatto già troppo qua a Gualtieno non so se ha preso il dolci ma conoscendolo sì l'avrei preso un dolce sto aspettando di sapere se ci sia il latte dentro al sorbetto ecco se non ci sarà il latte anch'io gradirò molto assaggiare un dolce della casa ah il dolce della casa il sorbetto vabbè dai comunque tu hai mangiato tanto ho mangiato troppo sono ingrassato di sette chili nelle ultime due ore ma no dai tranquillo sei chili e mezzo quindi qua facciamo attenzione facciamo passare solo gli altri qua è un pasticcio comunque qua c'è la Teresa qua abbiamo un'altra mia carissima amica che è il pasticcio della Teresa ci sono le ragazze che devono passare hai preso qualche dolce? no 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 niente 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 dolce ok vabbè ah qui invece abbiamo un'altra che non è ancora più maura prima lo so vabbè su e non hai preso dolci? no no perché qua è l'angolo senza dolci sei già posto già così troppa pizza troppa pizza però io non ho fatto sette io non ho mangiato sette io non ho fatto non ho fatto lei qua c'è Umberto se hai ordinato il dolce hai ordinato il dolce? niente dolce prima hai mangiato tanta pizza sì quindi sei già pieno così? e va bene saluta YouTube hai scelto dolce? sì no il caffè ah il caffè vabbè ci devo il tavolo è l'uomo e qua i giorni si devolverano io qua c'è Anna che fa il conto però vabbè ci sarebbe avrete uno e due teresa e quattro qua c'è una cosa qua stanno facendo già tutti i conti qua dobbiamo scusarci perché qua stanno facendo i conti è già pieno qua non si può però tu sei sempre sei sempre un grande fan di Marchese come hai detto prima sì ma ti piace così tanto Marchese anche se non gioca più di tanto non gioca più ti dispiace? come? a me sabato sera però ci sono già di buoni giocatori come Pjanic che dira altri ma tu cosa pensi che la Juno farà quest'anno? ce la farà la Juno? sì sì perché guarda che quest'anno c'è combattimento tra Inter e Napoli quindi un bel combattimento lì devi farcela adesso perché poi ci avrai Napoli questo venerdì sera lì a Napoli giocate venerdì sera e poi più domenica quella dopo contro l'Inter in casa all'Uento Stadium che adesso è diventata Allianz Arena sì da quello che hai visto e beh dai spero per te che almeno vincerai io sono tifoso del gol però ti porterò fortuna ok vabbè ok vabbè ragazzi adesso faccio un saluto anche lì ad anni fai un saluto buonasera perché tu stavi facendo i conti? stavo facendo i conti esatto guarda qua chi vuole i soldi guarda chi vuole i soldi non venga da me perché ne ho a parte questo non prendete i soldi ragazzi no infatti perché i soldi già sono solo per i conti boh ragazzi ci vediamo dopo per i saluti allora non sembra una tappa ecco il dolce di Elisa te lo stessi chiedendo grazie un po' di cioccolato 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 con il grazie con il mitico coso del personaggio no ti piace Elisa? non pensavi che sia come il personaggio eh però poiché altro non scapisco che cos'è ma qua c'è un becco non so che cos'è è una civetta ah una civetta sì è una piccola civetta quindi abbiamo un cioccolato di civetta anche Mattia l'ha preso Mattia grande l'ha preso tu sei golloso di cioccolati la trotta hai preso anche il crepe la nutella è il mio compleanno lo scorso anno te lo ricordi? sì e ti sei goduto ti sei mangiato la pizza ti sei mangiato la tua bevanda e hai mangiato anche il crepe la nutella qua Mario con il caffè grande Mario poi abbiamo tutti i maglie rosse qui io devo pagare una cosa che fai il natalizio anche te Mario sei già qua sei rossi in faccia perché ti sei abbronzato vedo sì perché ti chiamano il marone perché sei marone abbronzato che succede? aspetta qui ah Tonino grande Tonino qua ci stanno tutti ragazzi qua siamo finiti la serata la serata è finita adesso vado a salutare i miei amici vi faccio un saluto enorme ciao ragazzi alla prossima al prossimo video mettete un bel mi piace e scrivete sempre a Marco Pazzerello ok? ciao ragazzi alla prossima buonanotte a tutti ciao ragazzi buonanotte a tutti sono in macchina che sto tornando a casa ciao saluta Teresa ciao ciao Tonino Tonino guarda qua Tonino ciao è stata bella la serata per voi vi divertite ragazzi sì ciao Mattia saluta qua ciao buonanotte a tutti ragazzi e alla prossima grande Mattia forza toro ciao ragazzi alla prossima buonanotte avevo detto non facciamo dediche non facciamo dischi richiesta e bene ragazzi questo era il video spero che vi sia piaciuto a me sinceramente è piaciuto spero anche per voi e volevo dirvi se raggiungiamo almeno 40.000 mi piace faremo un nuovo video dove scegliete voi comunque mettete un bel mi piace tutti vi aspetto e scrivete sotto qua il commento quello che volete voi che così vedo un po' cosa ne pensate il video ok io adesso vi dico le ultime cose se volete seguirmi su facebook basta che andate sul mio profilo di facebook che si chiama Daniel Signor mentre invece il profilo di Marco che sarebbe Mark il profilo di Mark è Marco Livetti mentre invece il mio profilo di Instagram è Pazzerello23 tutto attaccato e poi quello di Mark non lo so ma lo scriverò poi sotto qui nel link poi c'è un altro canale di Youtube mio personale che però non lo uso tanto che si chiama Daniel Pazzerello Signor quindi vi consiglio di scrivervi Daniel Pazzerello Signor schiacciando la campanellina vicino così non perdete nessun video e poi il canale di Mark e Pazzerello che poi lo trovate qui sotto il link schiacciando la campanellina per non perdere il prossimo video ok ciao ragazzi buonanotte spero che il video vi piaccia e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ma quanto grossa buona cena buonanotte 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 foto di gruppo sotto il monumento turisti al campo di concentramento sulle spiagge arroventate lasciate ogni speranza a voi che entrate e state na 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 lì dove siete com'è che state ci state bene e state macellerie sudate in coda nei musei hotel di lusso nei villaggi dei pigmei mente sana e corpo fattiscente antologia della vacanza intelligente la tua vita all'arco da una vita intera fischia il vento ed urla la bufera tra le granite e le granate lasciate ogni speranza a voi che entrate e state na 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 lì dove siete com'è che state Ci state bene, e state Lì dove siete, com'è che state Ci state bene, e state Eppure non partiamo mai Ci allontaniamo solo un po' Mettiamo la vita un'ora Perché il ritorno sembri nuova Davvero non andiamo mai Oltre le nostre suone Muovi in passo, tieni il tempo Gira come gira il vento Lì dove siete, com'è che state Ci state bene, e state Eppure non partiamo mai Ci allontaniamo solo un po' Mettiamo la vita un'ora Perché il ritorno sembri nuova Davvero non andiamo mai Oltre le nostre suone Muovi in passo, tieni il tempo Gira come gira il vento Dietro le spalle, un morso di felicità Davanti il tuo, ritorna alla normalità Lavoro e feste e comandate Lasciate ogni speranza a voi che entrate Lì dove siete, com'è che state Ci state bene, e state Na 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 Essere o dover essere, il dubbio amletico Contemporaneo come l'uomo del neolitico Nella tua gabbia due per tre, mettiti comodo Intellettuali nei caffè, internetologi Soci onorari del gruppo dei selfisti anonimi L'intelligenza è demodep, risposte facili, dilemmi inutili Ah, 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 cercasi, storie dal gran finale Sperasi, comunque vada a pantarei, I'm singing in the rain Lezioni di nirvana, c'è butta in fila andiana Per tutti un'ora d'aria, di gloria La folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa La scimmia nuda balla, occidentali scarma Occidentali scarma Piovono gocce di Chanel su corpi assettici Mettiti in salvo dall'odore dei tuoi simili Tutti tutologi col web, coca dei popoli, oppio dei poveri Ah, 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 cercasi, umanità virtuale, sex appeal Comunque vada a pantarei, I'm singing in the rain Lezioni di nirvana, c'è butta in fila andiana Per tutti un'ora d'aria, di gloria La folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa La scimmia nuda balla, occidentali scarma Occidentali scarma La scimmia nuda balla, occidentali scarma Quando la vita si distrae Cadono gli uomini Occidentali scarma Occidentali scarma La scimmia si rialza Namaste Namaste Lezioni di nirvana, c'è butta in fila andiana Per tutti un'ora d'aria, di gloria La folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa La scimmia nuda balla, occidentali scarma Occidentali scarma La scimmia nuda balla, occidentali scarma La scimmia nuda balla, occidentali scarma Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.